L'addio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante risale all'estate 2020 dopo anni di relazione tormentata e costellata di tradimenti ma quando tutto sembrava andare a gonfie vele con irrispetti. L'addio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante risale all'estate 2020 dopo anni di relazione tormentata e costellata di tradimenti ma quando... Un dettaglio che non è passato inosservato ai nostalgici fans. A questo si aggiunge un avvistamento sospetto al party d'apertura del pop-up del brand di abbigliamento fondato da Ignazio Moser. Ignazio Moser è amico di entrambi anche se dopo l'esperienza al GF e la fine della relazione con Damante, i rapporti con Giulia De Lellis si erano un po' interrotti per essere ripresi di recente. Ma tornando agli ex Damellis, la pagina ufficiale di Clive ha pubblicato un video su social dove si vedevano i due ex allo stesso evento e questo ha fatto scatenare i rum. È anche vero che dopo l'uscita del libro di lei dove raccontava tutti i retroscena dei tradimenti di Damante, l'ex corteggiatrice di Pomezia era sembrato un po' meno sul piede di guerra nei confronti. Ma quello che interessa ora è sapere se possa esserci un ritorno di Ma se ti aspetterò sul ciglio senza far rumore Cancelletto da Mellispeak.twitter.com Barra 4i 0 z 5 x w h d e